Ritorna ad abbassarsi la percentuale di contagio da Covid-19 in regione all'8,3% con un totale di 754 nuovi positivi su 9.730 tamponi effettuati, di cui 7.714 molecolari e 2.016 test rapidi. Altri 61 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi sono stati confermati dai test molecolari. I decessi registrati sono 20 ai quali si aggiungono due morti pregresse afferenti al periodo compreso tra il 23 novembre e l'11 dicembre per un totale di vittime che sale a 1950 da inizio pandemia, di cui 763 solamente nell'ultimo mese. I ricoveri nelle terapie intensive salgono di una unità, sono 68, mentre quelli negli altri reparti scendono di 17 unità a 671. I totalmente guariti sono 41.208 e clinicamente guariti 1.165, mentre le persone che rimangono in isolamento domiciliare sono 12.179. I vaccinati in Friuli Venezia Giulia invece ad oggi sono 1,5 ogni 100 abitanti. Si tratta di un dato che mette la nostra regione tra le migliori in Italia. In base alle 70.000 dosi che sono state inviate fino ad oggi per questa prima fase, ha spiegato il vice governatore Riccardi, abbiamo raggiunto la massima capacità vaccinale tenendo conto che per ognuno è previsto una doppia somministrazione. In termini assoluti oltre 18.000 persone vaccinate su un totale di 1.200.000 abitanti. La struttura commissariale nazionale ha assicurato che verranno garantiti flussi di nuove dosi. Soddisfazione è stata espressa poi per l'alta adesione al vaccino da parte del personale della sanità pubblica regionale. Il dato medio ha spiegato Riccardi che pare al 70% con punte del 96% tra i medici.